Il segreto, 16-21 aprile. Fuga d'amore Il segreto va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio e il venerdì anche in prima serata. Le anticipazioni del segreto dal 16 al 21 aprile annunciano svariati colpi di scena. Aquilino aiuta Ernando a saldare il suo debito con lo sprozzino. Ernando non sa che l'uomo vuole diventare il proprietario delle sorgenti. Camila confessa al marito di essere incinta, poi va a ringraziare Aquilino, e si scusa per averlo trattato male. Beatriz non si rassegna alla fine della sua storia d'amore con Mattias, e cerca consolazione in Aquilino. Francesca dice a Prudencio, che farà vivere Giulietta in una sua proprietà, ma poi la fa distruggere da Mauricio. Se decide di andare via da Puente di Egio, e di accettare un'offerta di lavoro a Girona. Carmelo è il nuovo sindaco di Puente di Egio. Ernando confessa la verità a Camila sulla loro disastrosa situazione economica, poi va da Nicolas per ringraziarlo per il suo sostegno, ma non vuole accettare il suo denaro. Camila invita Beatriz a dimenticare una volta per tutte Mattias che ora è felice accanto a Marcella, e che sta per diventare papà. Saul riesce a garantire un lavoro, e un salario dignitoso agli operai, che lo aiuteranno a realizzare i suoi progetti. Il segreto, trame prossima settimana. La partenza di Fe e le anticipazioni del segreto della prossima settimana svelano che Nicolas deciderà di rinunciare per sempre a Camila. Emilia richiama all'ordine Beatriz, che è sempre più presa da Aquilino. La ragazza propone all'uomo una fuga d'amore a Madrid o Barcellona. Camila vorrebbe accettare il prestito di Nicolas, ma il marito non è d'accordo. Carmelo teme che Francisca possa fare del male a lui, e ai suoi cari. Candela rimprovera il marito e Carmelo. Stanno correndo troppi rischi per farla pagare alla Montenegro. Mauricio continua a trattare male Nazaria. Il capomastro soffre terribilmente dopo la partenza della sua amata Fe. Don Anselmo, dopo aver ascoltato i pettegolezzi su Aquilino e Beatriz, rimprovera la ragazza. Giulietta, dopo il bacio appassionato con Saul, si convince che sia stato lui ad appiccare l'incendio che ha causato la morte della figlioletta Ana. Saul vuole sapere tutta la verità su Giulietta. Chi è il padre di Ana e perché Lauria Arte, e la nonna Consuelo hanno deciso di stabilirsi proprio a Puente Viegio. Aquilino organizza una fuga d'amore a con Beatriz a Parigi. Nuovo scontro tra Giulietta e donna Francesca. Cosa altro accadrà nelle prossime puntate del Segreto?